Al quinto posto, abbiamo la Freddy di HD 1080p PTZ telecamera. Viaggiamo in oriente per guardare un modello della villa cinese Freddy. La qualità dell'immagine, in particolare in HD 1080p, di cui è dotato il dispositivo da Alfredi HD 1080p il suo soprannome. Si collega al Wi-Fi e consente inoltre agli utenti di utilizzare un software specializzato sui propri dispositivi iOS o Android per visualizzare dati in tempo reale e inviare notifiche, la compatibilità con Alexa non è disponibile. Include una struttura resistente e impermeabile che può sopravvivere agli elementi dell'aria aperta, nonché una staffa per un montaggio facile e veloce. Include 10 leda infrarossi che si accendono automaticamente quando la telecamera rileva la scarsa illuminazione e forniscono una visione notturna ottimale fino a 10 metri di distanza. Al numero 4, abbiamo Ring Stick Up Cam Battery. Restiamo in California per indagare su un modello Ring diverso che è stato sul mercato per circa 4 mesi. È una telecamera adatta ad ambienti interni ed esterni, con qualità HD fino a 1080p e microfono con audio bidirezionale, essendo il Ring, c'è anche in questo caso l'abbonamento mensile Ring Protect con cui ampliare la gamma di funzionalità presenti, essendo il Ring, c'è anche in questo caso l'abbonamento mensile Ring Protect con cui ampliare la gamma di funzionalità presenti, essendo il Ring, c'è anche in questo caso l'abbonamento mensile Ring Protect con il quale ampliare la gamma di funzionalità presenti. La Stick Up Cam Battery prende il nome dalle caratteristiche più notevoli della fotocamera. Stick Up allude alla sua caratteristica forma cilindrica, che lo distingue da molti altri modelli presenti sul mercato, batteria si riferisce a un'intrigante soluzione Ring per l'utilizzo in luoghi esterni. Al terzo posto, abbiamo la Ti presentiamo Ring Indoor Cam. Questo prodotto offre caratteristiche intriganti grazie alla casa californiana Ring. Nonostante sia una fotocamera per uso interno, la risoluzione video e HD raggiunge i 1080p. L'app dedicata e omonima consente la consultazione delle immagini in tempo reale, con la possibilità di attivare avvisi push al rilevamento di un movimento, può essere collegato a smartphone, tablet e Alexa. Dispone di un microfono bidirezionale che permette di ascoltare e comunicare con l'audio dell'ambiente inquadrato. Non c'è batteria aggiuntiva poiché, a differenza del Blink, il Ring utilizza un'alimentazione a corrente continua, che richiede l'uso di una presa di corrente per far funzionare la fotocamera. Al numero 2, abbiamo il sistema di telecamere per sicurezza. Restiamo in Blink per uno sguardo più da vicino alla soluzione per l'ambiente interno sviluppata dalla società americana. La qualità dell'immagine è chiaramente HD, con una risoluzione fino a 720p e la possibilità di ridurla se è necessario risparmiare energia. Ha un sensore di movimento a infrarossi molto preciso che, non appena rileva un movimento nel suo campo visivo, accende un LED blu molto potente, in quanto sprovvisto divisore notturno, e avvia automaticamente la registrazione di un video della durata di 60 secondi compreso audio. Allo stesso tempo, viene inviata una notifica al nostro cellulare con la quale possiamo vedere subito il video che il nostro Blink ha registrato. Infine, il numero 1 nella nostra lista, abbiamo il Blink XT2, seconda generazione, telecamera di sicurezza. La prima telecamera IP che esamineremo ha ottime prestazioni. La risoluzione video è HD fino a 1080p durante il giorno, con vista a infrarossi in HD di notte e la possibilità di osservare ciò che vede il Blink in tempo reale grazie alla funzione Live Live. L'audio bidirezionale è una caratteristica intrigante che permette di interagire con gli altri che sono vicini alla telecamera quasi come un interfono. I film che vengono registrati possono essere salvati sui cloud senza costi aggiuntivi e la collaborazione della società Blink con Amazon ha reso l'XT2 compatibile con Alexa, fornendo tutte le comodità necessarie. Come sempre, troverete tutti i link dei prodotti che abbiamo discusso in questo video giù nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato il nostro video, si prega di come e condividere questo video, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per i video futuri. Ciao!